Per presentarvela è il vice campione del mondo, la coppia vice campione del mondo 2012, speriamo il 2013. I campionati del mondo si svolgono a Euro Disney a Parigi dal 6 al 9 dicembre. Questa è la data di campionato del mondo, quindi speriamo che queste coppie abbiano dei buoni risultati ai prossimi campionati del mondo di Euro Disney. A presentarvi, grazie Valerio, puoi partire con il cia cia cia, sono i vice campioni del mondo Massimo Sassaroli e la cura Virginia. Bene. Entrano adesso in pista. Davide e Ambra. e la Zorana Lucia. A with a bit of standing you, lady, shana. I'd be a great sensation. I'd be your inspiration. Say, daddy. I want a brand new car. Champagne, a caviar. Say, daddy. You ought to get the best for me. Bene. E questo era il cia cia cia. Ciao. Passiamo al zamba. Ciao. Grazie a tutti. 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 Non pensavo cosa fosse un paradiso, non credevo in esistenza e l'improvviso, quella luce che si è accesa sul tuo viso, di anche quel dolore e quello scorriso. Bene, grazie per questa stupenda rumba. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Complimenti. Grazie a tutti. 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 Adesso abbiamo uno dei momenti più simpatici e più divertenti della serata perché l'abbiamo voluto organizzarlo proprio per divertirci. sono otto coppie di pazzi. Sono otto coppie di pazzi con noi nove e abbiamo voluto creare questo spettacolo. pregherai ai fotografi di scendere il secondo del gratino, grazie in questo momento. Prego. Diciamo alle signorine di potersi accomodare, grazie. e andiamo a presentare una delle cose più belle per quanto riguarda la salsa cubana ed è sicuramente la rueda. La rueda è praticamente otto coppie che ballano a cerchio e ballano a salsa cubana. Ma noi abbiamo voluto renderla un po' più anni sessanta, anni settanta. L'abbiamo voluto renderla un po' tipo Chris. Comunque, signori, vi presentiamo questa rueda di salsa cubana. musica, grazie. musica, grazie. musica, grazie. musica, grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.